Momento complicato per Amadeus, che dovrà fare i conti con una querela presentata da un big del mondo dello spettacolo. La situazione tra i due non è delle migliori e ora si prospetta una dura battaglia in un'aula di tribunale. Col conduttore passato da poco a nove, dopo l'addio alla RAI, che contatterà i suoi avvocati per difendersi a dovere. Amadeus ha ormai saputo di questa querela, che nasce da un'indagine che è finita poi in archiviazione. Coinvolge questo potente dello showbiz, in riferimento ad uno show di Checco Zalone all'Arena di Verona del 2023, prodotto da questa persona. Infatti, alla DN Cronos è arrivata una dichiarazione importante dal legale del big dello spettacolo, che ha ora puntato il dito contro Amedeo Sebastiani. Ad attaccare Amadeus, che subirà questa querela, è stato il suo ex manager Luccio Presta. L'avvocato di quest'ultimo, Cersosimo, ha rivelato, l'arcobaleno 3 aveva richiesto la concessione almeno un anno prima, quando amministratore unico dell'Arena Verona era Giancarlo Mazzi, oggi senatore e sottosegretario alla Cultura. Ebbene dopo lo spettacolo, una persona presenta un esposto alla procura, sostenendo che nella concessione dell'Arena ci fosse qualcosa di torbido tra Presta e Mazzi. Da qui la procura avvia le indagini e a marzo 2024 vengono perquisiti gli uffici di Arcobaleno 3 con l'acquisizione dei dati del cellulare e del computer di Lucio Presta. Mazzi da parlamentare non viene iscritto. E l'accusa nei confronti di Amadeus è che, in qualità di testimone, avrebbe detto cose non vere in tribunale, sotto giuramento afferma cose del tutto false, in particolare sui rapporti tra Mazzi, Presta e Checozzalone per cercare di creare dissapori tra il manager e l'attuale sottosegretario alla Cultura. Sporgeremo querela nei confronti del conduttore televisivo. Ormai i rapporti tra Amadeus e Lucio Presta si sono azzerati ed evidentemente non sono più amici. Staremo a vedere come finirà la querel giudiziaria tra i due. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.